La registrazione fra privati, il divieto di diffondere le registrazioni fra privati al fine di danneggiare una persona, è stato inserito perché non possiamo vivere in uno stato di terrore e di polizia, perché non possiamo pensare che chiunque incontra un altro soggetto, l'altro soggetto abbia un registratore in tasca.